Buongiorno e buon mercoledì, allora pollicione, se volete iscrivervi vi ringrazio, attivate la campanina per ricevere le notifiche e ringrazio tutti quelli che condividono, commentano e sostengono, questo è il nostro secondo canale e ci aiutano a farli crescere. Ieri non è successo niente, era prevedibile, ho detto, poteva capitare ma non è, perché purtroppo l'IMS fa un po' quello che vuole ormai, però ce li aspettiamo oggi, ci aspettiamo oggi le lavorazioni che potrebbero partire anche mentre vedete questo video o poco dopo che questo video è uscito, perché non abbiamo neanche più una data di riferimento, o meglio non abbiamo più neanche un'ora di riferimento. Una volta sapevamo che le lavorazioni erano un dato giorno, tranne le recezioni, dovute generalmente alle festività, e il pagamento era un dato giorno. Adesso non abbiamo un riferimento preciso sulla data, non ce l'abbiamo sull'ora e a volte non ce l'abbiamo neanche sul giorno in cui vengono caricate. Però me le aspetto oggi, me le aspetto oggi per venerdì, quindi appena le vedete avvisate me, avvisate Elena, avvisate Radio Ucci, avvisate Mr. Lull, che sono partite così anche i loro scritti lo sanno e si possono preparare. Spero anche che ci siano gli esiti per le persone che sono ancora in quello stato di limbo delle sospensioni, e soprattutto spero che siano esiti positivi, in modo da poter tirare un sospiro di sollievo. Ricordando sempre a tutti che nel momento in cui fanno le lavorazioni e le completano, la data e la cifra compaiono diverse ore dopo rispetto alla lavorazione. Purtroppo è così e vabbè. Voglio chiarire un punto, grazie Fabrizio per la domanda, però abbiamo cercato, non ci... Allora, partiamo da un presupposto, l'RDC non c'è più, non c'è più come norma. Ci sono iniziative locali, io delle iniziative locali le prendo per quello che sono parole, finché non vedo qualcosa di concreto, qualcosa di statutario, per me sono solo parole. Ricordatevi quello che diceva De Luca quando venne abolito l'RDC, Eh, adesso faremo una misura di sostegno, una misura così, non ha fatto un accidente, niente di niente, l'ha detto a parole. Eh, perché c'è comunque il fatto che lui è interessato a una cosa sola, a sua poltrona, quindi lo dice perché così attira i voti. Poi fattualmente non ha fatto niente per gli ex percettori RDC, niente di niente. No, ha parlato. Come se le sue parole fossero più importanti di quelle di un'anatra che gira con i suoi natroccoli, ecco. Quindi, se anche leggete queste cose, prendetele non solo con pinze lunghe un chilometro, con pinze lunghe dieci chilometri. Perché anche se dovesse esserci una nuova norma, posto che si riesca ad andare al governo, e ricordiamoci che siamo alleati con un partito a cui dei poveri frega zero, dei salari minimi frega zero, frega zero di quasi tutto quello che riguarda il proletariato, il lavoro e altro. Gli interessano altre cose, gli interessano i temi walkisti e loro sono lì. Per loro sono quelli le cose importanti. Perché? Perché l'ora elettorato ormai non è più il proletariato, ma è l'alta borghesia, cioè la gente che ha la pancia piena e non gliene frega una mazza della gente che non ce la fa arrivare a fine mese. Potremmo sì, tornando al governo, come vedo in questa situazione, è anche difficile. Potremmo avere una nuova norma, ma non sarebbe più comunque l'RDC. Sarebbe una norma diversa dall'RDC e diversa dall'ADI. Strutturalmente sarebbe diversa, perché comunque sarebbe anche l'occasione per rimediare i difetti dell'RDC, che c'erano e che uno stato serio avrebbe eliminato, avrebbe ridotto, invece di togliere la norma e mettere una che funziona dieci volte peggio dell'RDC. Però per adesso non prendete per buone queste cose, non prendetele assolutamente per buone, perché fattualmente non ci sono prove, non ci sono elementi reali. Soprattutto non ci sono soldi. Rispondo anche alla domanda relativa alle carte acquisti non ricaricate. Ragazzi, abbiamo chiesto, abbiamo chiesto, la risposta è generale. Ricaricano quando ricaricano. Cioè, questa è la risposta che vi danno. Perché con la carta acquisti funziona così. C'è una data in cui cominciano, una data in cui cominciano, e poi fanno un po' il cavolo che vogliono. Regione rispetto a regione, comune rispetto a comune. Le ricaricano quando gli pare e piace. La cosa assurda è che non stiamo parlando di un numero spaventoso di carte, il numero è abbastanza limitato, ma invece di fare una cosa omogenea, organizzandosi tra le varie regioni, si fa tutto a spezzatino. Per cui ci sono persone che hanno ricevuto la ricarica della carta acquisti dopo un mese che era iniziata la ricarica generale. E purtroppo la risposta che vi danno è questa qui. Se avete comunque dei dubbi, pensate che possono avervela sospesa, la soluzione, ve l'ho detto, l'ho detto in un altro video, è andare direttamente in comune. Andare in comune per vedere se c'è qualcosa che ha fatto bloccare la carta, ha fatto sospendere la carta. Perché quelle carte dipendono dagli assistenti sociali, dagli uffici comunali. Non dipendono da altro. Poi qualcuno, io mi ho anche segnalato qualcuno, che prende la carta dedicata a te nonostante non abbia requisiti, è anche lì, lì il problema dei controlli. I controlli che devono fare sia i comuni che l'Inps. Se li fanno con i piedi, poi ci possono essere questi buchi. Ma state tranquilli che non salterà fuori niente, perché quando c'era da criticare l'RDC, erano tutti pronti, e lo criticano ancora adesso, ogni tanto tocca sentire Italo Arte Orale e altri buffoni così, che tirano ancora in ballo l'RDC per i posti di lavoro che non ci sono. Ma adesso su questa cosa non diranno niente, perché questa cosa l'hanno creata loro. In fondo è bastato sentire un piccolo balzetto in avanti nelle valutazioni dell'Istat per vederle già gonfiare il petto, salvo magari fra due mesi sentirsi dire che sì, questo balzo qui non era calcolato bene e non funziona. perché funziona così? Cioè, sì, c'è un piccolissimo miglioramento, certo. Guardisco, sei nella fossa delle Marianne, sali di un metro, ma sempre nella fossa delle Marianne. Sei, eh? Non sei tornato in superficie. E chiudo, ribadisco con l'ironia, dico io ironia perché ci vuole un certo coraggio, della Locatelli, che ancora una volta ha detto che sì, la sua priorità, attenzione, per il biegno 2025-2027, cioè quando il governo deve finire, finirà i suoi cinque anni, è aumentare le pensioni di invalidità parziale. Questa stessa frase l'aveva detta per il biegno 2023-2024. Scusatemi, 2025-2026, non 2025-2027, scusatemi. Questa stessa frase l'aveva detta per il biegno 2023-2024. Avete visto qualche aumento? Esatto, non ce ne sono stati. Si sta avvicinando il periodo in cui si inizierà la campagna elettorale per le prossime politiche e cominciano le promesse. Cominciano le promesse, però cosa succede? Che da parte dei Meloniani le promesse le fanno da furbi, come le faceva il Silvio. Invece da parte del PD le promesse sono uoche, quindi non fottono una sega a nessuno. L'ho detto, se c'è questo governo, noi siamo i responsabili. Perché noi, invece di pensare al povero, pensiamo a delle cose che interessano l'1% della popolazione italiana e al resto non frega niente. Chi dovrebbe essere il nostro elettorato di riferimento, cioè il povero tagliato, noi manco ce lo filiamo, noi andiamo nei salotti buoni, nei salotti con la gente con la pancia piena, con la gente grassa e del povero ce ne sbattiamo le balle. Come se ne sbattono le balle quelle lì? E cosa succede? Che il povero o non vota o va a votare per gli altri? Sperando che quelli là abbiano una botta di genio e facciano quello che noi di sinistra non siamo capaci di fare, cioè aiutare il proletariato. Avanti così. Poi portiamoci dentro anche Renzi con quel bel personaggio che è, non so, il prossimo cosa vogliamo candidare? Qualcuno che parlava con i pizzini? Perché noi siamo pronti a fare la morale per lo schifo che ha fatto Toti, ma tanto ci teniamo dentro gente come De Luca e tutti i capi bastone che girano all'interno del PD. Non siamo nella condizione, io parlo del PD, eh? Non parlo di Conte, parlo del PD. Non siamo nella condizione di poter farla morale agli altri, perché la nostra morale l'abbiamo venduta tranquillamente per andare a mangiare nei salotti buoni. Io voglio vedere uno del PD che va a mangiare la piadina con gli operai, non a mangiare quel silicone ambulante dei baglioni. Ecco. O che si abbraccia con Renzi mentre vanno a giocare una partita di calcio, che mi ha dato sinceramente il vomito. O che fa eleggere una demente che non sa neanche dove si trova, che straparla di ismo relativamente alle carceri. Questo qui siamo noi. Siamo noi. E poi ci lamentiamo che perdiamo le lezioni. Perdiamo perché abbiamo creato noi le condizioni per farli vincere. Per cui loro possono anche candidare il più gran coglione del pianeta e riusciranno a vincere perché noi non diamo un'alternativa credibile, non diamo un'alternativa seria e ci limitiamo alle frasi roboanti e ai discorsi insensati che non attirano le persone. La gente vuole fatti concreti. Non pipponi demagogici come facciamo. Perché veramente avete rotto il cazzo. E mi riferisco specificamente alla sciane, a tutta quella banda di capi bastoni incapaci che hanno, se era possibile, peggiorato ulteriormente la situazione rispetto a Letta. Va bene ragazzi, aspetto di sentire da voi che sono arrivate le lavorazioni e noi ci risentiamo mercoledì, perdon, venerdì scusatemi. Intanto, ieri e domani ci sono le due parti del video su Borodino. Non so se la settimana prossima ci saranno due parti sull'operazione Tifone o se slitteranno di una settimana perché Jack voleva che a Montero romperò un po' a parlare di un paio di libri o di qualcos'altro. Io vi abbraccio tutti e speriamo che vada tutto bene. Ciao ragazzi.